Musica 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 No giura? Ho sentito un negozio che si chiama Genova dell'informatica dove vende oggetti per informatici perfetti Andiamo faccio un giro? Musica 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 Buongiorno Buongiorno Desiderate? Una stampante, ieri mi si è rotta Si è rotta la stampante E allora? Tu volete? E' una stampante Veramente io ho una stampante aeronomica Ce l'avei si però E' arrivato uno strano signore oggi Si ha detto via sta roba Così me la faccio vedere Un po' strano io lo so Non mi rispondo Ehm Guardi la stampante E' dentro questa scatola Che tipo che è arrivato Che tipo che è arrivato Doveste immaginare Già una barba Un barbore Un barbore Secondo me se ne voleva liberare Io E' già un Il mio tesoro Se è economico Interesso Si Costa Guarda Mi ho detto di venderla Quello che riesco a prendere Quanto mi date? 100 euro 100 euro Ok ok Va bene Va bene Prendetela via Ciao 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 Dobbiamo disegnare un cubo oggi Per cui Partendo dal quadrato di riferimento Tracciate delle rette Che siano inclinate di 45 gradi Partendo da ogni vertice Dal comando Selezionate retta Per due punti A questo punto unite I segmenti Poi tracciate le linee che vi interessano E avete ottenuto Il vostro cubo Provate anche voi A farlo sul vostro computer Non è Non è così difficile Come sembra Basta Tracciare le parti giuste Segmento tra due punti E unire Se avete dei problemi Poi me lo dite E cerchiamo di lavorarci insieme Se volete potete anche colorare Tutte le superfici interessate Allora Escolate la campanella Preparatevi ad uscire Mentre voi due Dovrete stampare il vostro lavoro Perché ve lo correggo D'accordo? Sì Bene La lezione è finita Oh atti è venuta benissimo la staffa Guarda Boh Bello Va bene Allora la prossima volta Vi ha consegnato Scusi prof posso andare a stampare delle immagini per la ricerca? Vieni dai su Vieni dai su Ecco prof E' finito E' bello dove l'hai trovato? L'ho trovato da internet L'ho stampato Mi sembra carico Che hai fatto eh? Grazie Se vuole la appoggio qua e poi la posso prendere ai piccoli Tu Va bene No Ah si No ragazzi Guarda Porca Un Un Buongiorno, buongiorno, buongiorno. La stampante ci ha fatto degli animali visuali, è stranissimo, come è possibile? Scusate, è vero, c'era ancora un altro oggetto che mi aveva dato quel pazzo lì, mi ha detto di darvi questo, non lo so, ma ha detto di dare questo qua insieme alla stampante, prendendolo, non so, era insieme alla stampante, non mi avevano proposto, non mi aveva detto. E' da sforzare, di sicuro? Ci sarà delle restrizioni dentro, proviamo a andare a vedere. No, è provato a andare a vedere, ci rivediamo poi, se invece è un problema, grazie, arrivederci. Ciao, ciao. Torni, vieni, 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 vieni. Cazzo, stessi, ci stiamo con tutti. Cosa stai facendo? Le creature sono città e poi distrappate. No, è vero che ti ha dato lo spruzzino, quelle noce. Stiamo preso. Cazzo, quanto ci vuole? Dovieni? Aspetta. Cazzo, quanto ci vuole? Aspetta. Ciao, ciao. se non importa qui vuoi ne parca cattiva non tanto non sobrava niente Grazie a tutti.